Peccati e mortali comincia con un esergo, con una citazione iniziale tratta dal Vangelo di San Marco In verità vi dico, tutti i peccati e tutte le bestemmie saranno perdonati ai figli degli uomini ma chi avrà peccato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno è uno dei brani più duri del Vangelo quindi l'abbiamo un po' stemperato, come è scritto oggi la Gazzetta di Modena con una citazione di Renato Zero, il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà Salvini è caduto e ora al governo c'è il PD con il popolo dell'onestà ma il premier è debole e il ministro dell'interno trama qualcosa per salire al potere in più un cardinale viene trovato morto in circostanze misteriose è questo lo scenario in cui si apre Peccati e mortali il nuovo romanzo scritto a quattro mani da Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone due prestigiose firme del Corriere della Sera oggi presenti al Biperforum Monzani nell'ambito di incontri con l'autore per la prima volta un romanzo giallo entra nei corridoi di Montecitorio e quanto c'è di vero e quanto c'è di verosimile in questo giallo che avete scritto a quattro mani? beh ci sono alcune cose che Fabrizio Roncone e io non possiamo scrivere sul Corriere della Sera non perché ci censurino ma perché ci vogliono le prove e dove non hai le prove devi scrivere un romanzo devi usare la fantasia e a volte usando la fantasia si arrivano a scrivere cose più vere del vero quanto è stato divertente scrivere con un collega e un amico? è stato molto divertente e negarlo sarebbe dire una bugia ma non abbiamo mai smarrito l'idea che noi siamo due giornalisti, due cronisti, due giornalisti del Corriere della Sera e quindi una volta scritto un libro sapevamo che sarebbe rimasto e quindi il nostro augurio è che alla fine, arrivata all'ultima pagina le lettrici e i lettori di questo libro restino in possesso di qualche strumento in più per capire meglio i meccanismi che regolano la misteriosa a volte vita politica italiana senza svelare troppo della trama vi hanno praticamente dato dei poteri divinatori perché siete riusciti a prevedere dei fatti, degli accadimenti con alcuni mesi d'anticipo questa è una cosa giocosa sulla quale noi battiamo proprio perché non vogliamo svelare troppo di un giallo che è avvincente sin dalla prima pagina quindi che cosa avete lasciato, tralasciato volontariamente che non troviamo nel libro e che vi sentite che potrà accadere? Il libro è stato finito all'inizio dell'estate e ambientato a Roma tra qualche anno ma nel frattempo la realtà ha accelerato e alcune delle cose previste nel libro sono diventate già realtà la caduta di Salvini, il governo PD 5 Stelle, la nascita del partito di Renzi poi noi immaginiamo anche che la Borgonzoni possa diventare presidente di Emilia Romagna non è un auspicio, è una previsione, vediamo se succederà e poi c'è l'idea che Renzi possa tentare di far cadere il governo votando insieme con Salvini c'è una cosa terribile, un nomba che grava su Roma un disegno del ministro dell'interno, un personaggio di fantasia che è pronto a tutto pur di prendere il potere insomma ci sono elementi di fantasia che non diventeranno mai realtà e non devono diventarlo il gioco vuol far interagire personaggi immaginari, personaggi reali però non è stato fino in fondo un gioco cioè ha ragione Fabrizio, noi in fondo amiamo il nostro mestiere, amiamo il nostro paese non ci piace vederlo ridotto così com'è e vorremmo un'Italia diversa io penso che leggendo il libro si rida qualche volta forse si piange e di sicuro ci si arrabbia ci si indigna, l'indignazione è un sentimento positivo Dante punisce severamente gli ignavi che non si scandalizzano di fronte al male l'indignazione invece è la premessa per il cambiamento, per il riscatto Fabrizio, che ritratto dell'Italia ne esce dal vostro libro? Un ritratto purtroppo, sottolineo purtroppo molto autentico Roma è una città a volte amata, a volte odiata alternativamente oggi vive un momento come tutti sappiamo drammatico una vera agonia ma insomma Roma è una città che ha saputo reagire all'invasione dei Lanzichenecchi ha saputo uscire fuori dall'occupazione dell'ESS quindi io sono sicuro che anche questa volta Roma rinascerà però certo noi con quella città dobbiamo fare i conti perché è lì che tutto comincia il centro del potere di questo paese è lì e quindi noi dobbiamo capire che cosa succede in quella città che cosa succede nei palazzi che contano in quella città dove ci sono i due grandi poteri che regolano la vita di questo paese una dall'altra parte del Tevere, il Vaticano e l'altro grande potere che è quello del Parlamento italiano noi abbiamo portato, porteremo i nostri lettori e le lettrici che avranno voglia di leggere il libro in quei corridoi e gli faremo capire che cosa succede in quei corridoi a cosa si è disposti pur di conquistare il potere l'ultima domanda che vi faccio a entrambi è questa noi tra poco andremo a votare e qui è nato spontaneamente il movimento delle Sardine che cosa pensate della situazione politica emiliano-romagnola e appunto di questo movimento? le immagini sono molto suggestive piazza Maggiore Bologna qui a Modena abbiamo visto le immagini della piazza del Duomo con l'absi della Ghirlandina circondate dalla folla con gli ombrelli visto che pioveva, piove sempre ormai questo novembre da una parte viene da dire che Modena Bologna un po' di gente di sinistra è rimasto però non era scontato che si immobilitassero così non a grazie al PD ma nonostante il PD è un movimento che viene dal basso tutte le forme di partecipazione sono positiva manifestare contro è perfettamente legittimo diverso il discorso dei centri sociali che cercano di impedire a Salvini di parlare non ci riescono ma fanno il suo gioco Salvini si presenta come vittima si presenta come voce fuori dal coro in realtà lui è il coro e i centri sociali che vogliono contestarlo gli fanno il controcanto Sardini è interessante vediamo come va a finire la partita è molto aperta quella nel libro è veramente un gioco dovendo mettere in scena la Borgonzoni ci siamo immaginati che sia la presidente dell'Emilia Romagna magari invece non andrà così non so neanche quanto i 5 Stelle possono portare via Bonaccini se la partita è Bonaccini e Borgonzoni dovrebbe vincere Bonaccini se la partita è emiliana se la partita è nazionale allora potrebbe vincere Salvini visto che è il suo momento Fabrizio a me il movimento delle sardine ricorda molto i girotondi in genere questi sono dei fenomeni che segnalano un disagio da parte delle persone che comunque sono di orientamento di centro-sinistra però sono come delle bolle che vengono quando hai un'intossicazione cioè è l'organismo che dice non ce la faccio più quindi la politica dovrebbe cogliere queste bolle sono come delle bolle, come degli eritemi da intossicazione la politica dovrebbe capire che c'è un disagio che c'è un'aspettativa di un cambiamento vero, reale non quello che raccontano i politici ogni volta che vanno in televisione bisogna capire se questa volta il segnale verrà colto e non verrà invece strumentalizzato come si cercò di fare e in parte si fece con i girotondi tant'è che a un certo punto Nanni Moretti capì che il gioco che era una provocazione stava finendo e fu lui a chiudere l'esperienza grazie grazie